Musica Ben ritrovati, ben ritrovati, sapete cari telespettatori che quando siamo qui a quest'ora ce ne andiamo in giro per il mondo. La cosa bella è che lo possiamo fare comodamente seduti sul nostro divano, questo grazie ad avventure nel mondo che ci fa sognare e fare questi viaggi in posti davvero a volte quasi irraggiungibili con le immagini fotografiche che ci portano. Questa volta ce ne andremo nel territorio più alto e isolato di tutta l'America Latina. Questa volta andiamo? Musica Eccoci qua, ce ne andiamo in Bolivia e lo facciamo accompagnati da un gradito ritorno Giulio Seva. Ciao Ciao, bentornato e grazie di essere ancora con noi. Lui come al solito è uno dei coordinatori di questi fantastici viaggi organizzati dall'angelo delle avventure di Milano. Ce ne andiamo in Bolivia dove abbiamo detto che è il territorio più alto e isolato di tutta l'America Latina. E anche un po' la culla di tutte le tradizioni, leggende, cose talvolta molto strane, antichissime, che ci racconterai, non vediamo l'ora. Prima di tutto però dici Giulio, quando sei andato in Bolivia? Io sono andato in Bolivia l'anno scorso, era agosto, quindi era in pieno inverno australe. Quindi la stagione più fredda per la Bolivia, ma sembra strano il periodo ideale per visitarla. Quindi nel 2022, recentissimo questo viaggio, e il gruppo da quanti era composto? Eravamo in 16 con me, 15 partecipanti più io. Ok, ovviamente in Bolivia ci sei arrivato con l'aereo. Sono arrivato in aereo, sì. Siete un po' strani a volte, però in Bolivia ci siete arrivati. Sì, 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 mia nave era un po' lunga, diciamo. Siamo arrivati, siamo arrivati prima a Santa Cruz della Sierra, qua lo vediamo nella cartina, che è una città di recente sviluppo economico, che rappresenta uno dei due porti di ingressi a quelli che vengono chiamati le Terre Alte della Bolivia. E poi siamo andati verso Sucre. Una cosa importante è che nella stesura e nella organizzazione di questo itinerario è stato fondamentale arrivare a Santa Cruz e non invece a La Paz, che è la capitale della Bolivia. Di fatti è l'alto che l'aeroporto di La Paz, che si trova in un quartiere della capitale, è a 4.000 metri, mentre Santa Cruz è a 380 e Sucre è a 2.800. Questo permette un acclimatamento migliore e un migliore adattamento alla quota, che per un viaggio in altezza, dove per quasi tre settimane staremo a 4.000 metri, con delle punte anche a 5.000 metri, è fondamentale per ridurre al minimo dei problemi che possono risultare a livello fisico, se non si adatta alla quota. Quindi questo è stato fatto giustamente in maniera graduale. Tutto studiato a tavolino dal nostro Giulio Seva. Quindi iniziamo appunto con la mappa che abbiamo visto e la prima tappa, da come ci hai detto, che è Sucre. È Sucre, esatto. Siamo nella parte regionale della Bolivia, che poi è la parte che noi visiteremo. Da Sucre ci siamo spostati a Tupizza, sono circa 4 ore di bus. Tupizza è la città più alta al mondo. Sono 4.070 metri sul livello del mare. Siamo stati a Potosi prima e poi a Tupizza. Tupizza ci sono delle Kebradas, i canyon con le gole profonde, le pareti verticali multicolori. E da qua abbiamo abbandonato tutto e tutti. Siamo allontanati dalla civiltà e siamo entrati nella riserva andina di fauna Edoardo a Varroa. Qua abbiamo trascorso 10 giorni in compagnia solamente di noi stessi. Qua il turismo non c'è, non c'era nessuno. Abbiamo visitato il vero motivo per cui si arriva in Bolivia, ossia vedere le terre alte della Bolivia. Abbiamo fatto poi un breve passaggio in Cile per andare a visitare il Salar de Uyuni, facendo tappa a San Pedro de Atacama, per poi ritornare in Bolivia e andare verso nord. Prima siamo andati a Salar de Uyuni, che rappresenta la distanza di sale più grande al mondo. Sono all'incirca 10.000 metri quadrati. E poi nel poco visitato Sayama National Park. Le ultime due tappe le abbiamo fatte alla Paz, che è la capitale della Bolivia, e al lago Titicaca, che rappresenta il lago navigabile più alto del mondo. Benissimo. Un panorama generale, diciamo. Tutti questi spostamenti come li avete fatti? Tutti quanti, la prima parte, in bus con un pulminio. Poi invece nel parco con quattro jeep. Nessun spostamento in aereo, tranne quello che ci ha portato a Sucre. Ok. Allora, iniziamo da Sucre. Cosa avete visitato? Sì, ecco qua. Siamo nell'alto piano meridionale della Bolivia, e Sucre è la capitale costituzionale della Bolivia. della Bolivia. Infatti, la Bolivia ha due capitali. Una è Sucre, dove c'è la Corte Costituzionale, e l'altra è la Paz, che è la capitale legislativa, quella dove c'è il governo. Magando Sucre abbia solo 300 mila abitanti, rispetto al milione di abitanti di La Paz, è quella che ha maggiormente influenzato culturalmente e artisticamente l'intera Bolivia. Per fare un esempio, è qua che nel 1825 incominciò la rivolta che portò all'indipendenza della Bolivia. È una città coloniale, fondata tra il XVI e il XV secolo, che ancora mantiene il retaggio della dominazione spagnola, che in tutto il Sud America ha monopolizzato, diciamo, le civiltà. La sua struttura, infatti, ha una piazza principale, dove si concentra la vita cittadina, e poi le varie quadras, ossia dei blocchi che si sono formati successivamente e che hanno portato allo sviluppo della città. Una cosa interessante è che Sucre è conosciuta con cinque nomi. Infatti, la sua storia è molto lunga. È il nome più importante, quello di Sucre Bianca, ossia Città Bianca, dovuto, come si può anche vedere dalle prime immagini, alla colorazione delle sue abitazioni. Incominciamo a fare il nostro tour. Incominciamo dalla plaza centrale, la Plaza 25 de Mayo, che è il nome che molte piazze si chiamano così in Sud America, perché fu il giorno in cui incominciò la rivolta verso i conquistatori spagnoli. Qua c'è anche il luogo di culto più importante della città di Sucre, che è la cattedrale di Nostra Signora de Guadalupe, una commissione di stili che vanno dal barocco al rinascimentale. Questo perché ci vogliono all'incirca un secolo e mezzo per costruirla, e quindi ha avuto varie influenze. Poi siamo andati, ed è la prima foto in alto a sinistra, che è il monastero francescano della Rigoleta. È su una collina, dove si vede un bellissimo tramonto, è un monastero del XVII secolo, e al suo interno c'è un cedro che ha 1500 anni, che è diventato nel 1956 monumento storico nazionale. Si dice che qua sotto, il Simón Bolivar, il conquistatore della Bolivia, quello che ha liberato il Sud America dagli spagnoli, si sedeva e rispetteva sui progetti futuri. Sul da farsi. Esatto. Ma già l'ha ispirato bene questo cedro, perché comunque poi... Ne ha fatta di roba, si è impegnato, si è impegnato. Nel suo intento è riuscito. Abbiamo visto di Sucre, sono finite le immagini? No, abbiamo quella a destra, che invece è in stile neoclassico, che è la chiesa di San Filippo Neri. Questa è famosa ed è il motivo per cui viene chiamata città bianca. È tutta bianca, la pietra arriva da una collina che si trova a 4,5 chilometri da Sucre, e la vista dall'alto è la vista dal tetto, che domina la città. L'ultima foto, non posso far a meno di notare questa iscrizione, è la Uniones, la Fuerza. È la Corte Suprema, che si trova nella porta centrale, dove c'è sia la chiesa barocca, che la Corte Suprema, che il prazzo del governatore. E c'è anche un parco, il parco Simon Bolivar, dove c'è una riproduzione poco entusiasmante della Torre Eiffel. Poco entusiasmante, qualsiasi cosa sia una replica in generale, è poco entusiasmante. Come avete proseguito? Esatto, poi abbiamo preso il pulmino, 5 ore di bus e siamo saliti. Qua abbiamo incominciato a salire verso l'alto e siamo arrivati a Potosì. Potosì è la città più alta del mondo, siamo a 4070 metri, e si trova alla base del Cerro Torre, che è la miniera d'argento più grande del mondo. Spiegare la storia di Potosì è particolare, perché è una storia di magnificenza, ma anche di tragedia. Basta pensare che un tempo, per la sua ricchezza, per la sua opulenza, era chiamata Villa Imperiale, mentre ora era una città ormai ridotta in miseria. Infatti pensiamo alla Bolivia. La Bolivia è uno degli stati più poveri dell'America Latina, è uno degli stati che non ha lo sbocco sul mare. Non ha lo sbocco sul mare perché l'ha perso con la guerra del Pacifico contro il Cile, e questo ha puntato a un progressivo in suo indebolimento dal punto di vista finanziario. Potosì però è una città bellissima, e questo ha una storia importante. È dal 1570, l'anno in cui il vicere del Perù, Francesco da Toledo, notò che questi terreni erano ricchi di minerali, che l'argento viene estratto dalle sue miniere. Un tempo a lavorare c'erano gli scavi africani, i famosi miatos, poi furono gli abitanti, non gli ispanici, che ci lavoravano per sei giorni alla settimana, per dodici ore al giorno, per una quantitativa di soldi che non gli permetteva di pagarsi il vitto e l'alloggio, e quindi li metteva in un circolo vizioso di schiavitù. Oggi invece sono gli stessi abitanti di Potosì, ossia uomini, ma anche bambini e anche donne. Le famose chulitas, quelle donne con le lunghe trecce nere e le gonne multicloro, dove in realtà a loro sarebbe vietato. La cosa interessante e particolare è che la qualità e la quantità di quello che vanno a estrarre dipende il loro stipendio. Non c'è più quell'argento che veniva estratto dagli spagnoli che riempivano i galeoni che prendevano la via del vecchio continente. Ora è per lo più stagno, che è un metallo povero. Il loro stipendio è all'incirca di 350 dollari, ma soprattutto a preoccupare sono le condizioni di salute, sia di chi ci lavora che della montagna. Da questa immagine sembra che le condizioni di lavoro siano davvero dure. Sono tremende. Non ci sono le condizioni di sicurezza all'interno della miniera, ma soprattutto sono le malattie che prendono chi ci lavora. Hanno una vitamina di 40 anni, dopo 5-6 anni che ci lavorano gli viene la silicosi, che è una malattia polmonare che ti porta a diminuire la tua capacità polmonare del 50%. E qua incominciano a percepire una prevenzione che è di 150 dollari. Dopo 5-6 anni muoiono e questa prevenzione viene data a mogli e figli. Vivono in una situazione decisamente drammatica, tanto che il presidente Molares voleva chiudere la miniera, ma trovò l'inaspettata posizione proprio degli stessi minatori, in quanto in uno stato così povero la possibilità di avere un lavoro e di lavorare all'interno della miniera era unica e loro non possono fare altrimenti che entrare ogni giorno nella miniera e rischiare la propria vita. Noi ci siamo entrati. Abbiamo avuto la fortuna di entrarci accompagnati da una guida, ci hanno fatto vestire con la tuta, ci hanno dato la torcia, e quella che vedete sulla destra in alto è l'entrata della miniera, e vedete i binari su cui ci sono le carriole. Era il 5 agosto, quindi non c'erano molti minatori, perché il 6 agosto è la festa dell'indipendenza boliviana, quindi si stavano preparando a uno dei pochi giorni liberi che hanno, e quindi alla festa. E abbiamo visti senza mascherina, senza guanti, senza occhiali, senza scarpe antinfortunistiche, con solamente la dinamite e la carriola su cui trasportano quello che... Estrago. Esatto, tanto che la montagna sta crollando, perché anche se l'argento sta finendo, le triturazioni, le perforazioni della montagna continuano, e la sua cima sta venendo meno. Quello che è uno dei simboli della Bolivia, perché anche sulla moneta c'è il servo torre, è un vulcano che sta scomparendo. Noi siamo andati all'interno e abbiamo visto il Tio, che è quel diavolo che vedete nella foto in basso a sinistra, che è un diavolo che loro vanno a venerare. Ogni venerdì li portano doni per avere da lui la protezione. La cosa interessante è che i minatori inizialmente non erano felici di vederci, erano timidi, erano schivi. Poi gli abbiamo dato dei regali che gli abbiamo portato, sia delle bevande analcoliche come Coca-Cola e la Coca da masticare, che loro utilizzano a profusione perché ti permette di sentire meno la fatica. siamo sempre oltre i 4.000 metri, quindi è una condizione particolare di vita. Certo, di lavoro estrema. Esatto. Bene, abbiamo veramente fatto un viaggio particolare in una città unica nel suo genere. Esatto, una lunga storia. 4.000 metri con delle condizioni di lavoro del genere, una miniera quasi esausta, ma dove nonostante tutto continuano a lavorare. Insomma, una storia molto molto particolare. Dove ci spostiamo? A Tupizza. Siamo scesi, il nostro organismo è un attratto beneficio perché comunque siamo andati a Tupizza e siamo nell'altopiano Andino Meridionale. Siamo all'incirca un'ora e mezza al confine con l'Argentina. Tupizza è una città simile a quelle del Far West, con le strade sterrate e polverose. Le sue vere bellezze sono alle porte della città, dove abbiamo le Chebradas, che vedete nelle foto, che sono dei canyon con delle gole profonde, con delle pareti multicolore altissime. Noi abbiamo, siamo visse sia a cavallo che a piedi. Quindi a piedi abbiamo fatto dei brevi trekking per entrare in questi canyon e poi abbiamo fatto una mezza giornata a cavallo. La cosa bella era vedere la diversa conformazione delle rocce, comunque levigate da anni dall'intemperia, dal gelo e dal vento. La più bella e più particolare è sicuramente la Perunga, che è un pinnacolo che si innalza per più di dieci metri all'interno del deserto. Ecco, questo pinnacolo è naturale, dieci metri di roccia naturale, che sembra una colonna, insomma, scolpita dalla natura stessa, meraviglioso. Esatto. Il vero motivo poi per cui si arriva a Tupizza è quello che c'è oltre Tupizza. Qua incomincia il nostro viaggio, il vero motivo per cui siamo venuti in Bolivia. Vi ho portato un video per presentarvi dove stiamo andando. Abbiamo preso le nostre jeep, quindi quattro jeep, e abbiamo abbandonato la civiltà. Ci siamo immersi nella natura e siamo andati nella riserva andina di fauna Edoardo Avaroa. La cosa particolare è che, malgrado la Bolivia sia un paese per due terzi, bassopiani di foreste e pampa, è quel terzo, ossia l'alto piano andino, che è quello più visitato. Sono 8.330 km2, a un'altezza fra i 4.200 e i 5.400 metri. Ogni anno all'incirca 40.000 visitatori vengono a visitare queste terre. Per venire a visitare queste terre non ci può venire chiunque. La Bolivia non è un viaggio dove ci capiti, è un viaggio dove devi volerlo. È un viaggio che ha delle difficoltà, delle difficoltà estreme. Noi siamo venuti ad agosto, quindi in pieno inverno strale, e non sai in quale condizioni climatiche ti puoi trovare. Noi siamo stati fortunati, abbiamo avuto non troppo freddo, ma c'è gente che ha trovato neve e ghiaccio. E in più rimane in quota. Rimane in quota oltre i 4.000 metri con punti di 5.000 per dieci giorni consecutivi, che non è come dirlo. È provante dal punto di vista fisico. Senti, ma avevate una guida? No, non avevamo nessuna guida, avevamo quattro autisti e un cuoco, un santo cuoco. Considerate che lui ha fatto la spesa il primo giorno per dieci giorni e ha cucinato in mezzo al nulla, cose buonissime, tra cui anche la pizza è riuscito a farci, alimentandoci in ogni situazione. Si alzava, penso, alle 4 del mattino, faceva pranzo, poi ci faceva la colazione e poi partivamo. Bravissimo. Hector, una persona eccezionale, diciamo. Le nostre giornate qua erano scandite da ritmi obbligati. Ci alzavamo prestissimo, prima dell'alba, facevamo colazione, partiamo con il nostro tour, pranzavamo dove capitava, spesso in mezzo al nulla, con la macchina aperta e il nostro buffet all'interno del baule della macchina. Continuiamo il tour del pomeriggio, arriviamo nei nostri rifugi, una veloce merenda, cena e a letto, generalmente non più tardi delle 10. Ma i rifugi li avevi già praticamente prenotati? Ce ne sono pochissimi, quindi sì, esatto. Ve li faccio vedere, perché ho parlato un video per vedere dove abbiamo dormito in questi giorni. Erano degli hostal basici, tipo i nostri rifugi di montagna, con i rifugi di montagna, perché non c'era riscaldamento e non c'era acqua calda, per cui avevamo questi letti, non eravamo particolarmente ordinati, come si può vedere dal video, con delle coperte pesanti, ma con dei saccopeli che avevano una temperatura comfort anche di meno 20. Bani in comune, spesso all'esterno, come in questo caso, quindi di sera svegliarsi non era particolarmente consigliato. Insomma, cercavi di farla tutta prima di andare a dormire. Tutta, bisogna bere pochissimo, era consigliato. E per lavarsi? E lavarsi, faceva freddo. Se voli minare, affrontavi la doccia gelida, altrimenti passavi, ti lavavi dopo qualche giorno. E serviette umidificate fanno sempre il loro compito egregiamente. Esatto. Bene, bene, bene. Quindi anche questo lo metterei nel cassetto del Viaggio Estremi, no? Anche questa cosa particolare. È un viaggio che ti mette a dura prova. Devi essere pronto al freddo e all'altezza. È la mancanza di doccia. Esatto, sì. È la mancanza di doccia. Raggiungerei appunto questa cosa. Va bene. Comunque abbiamo iniziato a vedere davvero che cosa vuol dire questa riserva, quindi paesaggi mozzafiato sconfinati, dove davvero non si vede l'orizzonte e anche animali in libertà. Esatto, sì. Incominciamo, quindi ci addentriamo e partiamo da Sulla De Roma. È anche chiamata la città misteriosa, ma è facile capire come mai si chiama Sulla De Roma, perché le sue formazioni rucciose formano guglie, cupole e colonne che ricordano la città eterna. Noi ci siamo arrivati al tramonto e l'abbiamo vista dalla collina Antistante, quindi si può vedere un bellissimo visuale della città. È fuori dai generali turistici, per arrivarci si fa un percorso abbastanza angusto. Noi abbiamo anche bucato, ma siamo arrivati in tempo. Abbiamo bucato tre macchine il primo giorno, quindi diciamo che avevamo paura di finire le ruote, invece siamo riusciti a portarla a termine. La partenza non è stata col botto, però avete tenuto. Poi siamo passati alla similare Sulla De Incanto. Qua invece le formazioni rocciose per il vento e per il freddo e per il gelo hanno formato questa visita una città che non si vede dalla valle Antistante, ma si può fare un trekking al suo interno ed è molto bella. Certo. Si può fare una visita veloce, in mezz'ora si vede e si può arrivare vicinissimo. Come mi piace ricordare ogni tanto, quando guardo le vostre immagini, quello che non può fare il più fantasioso degli architetti riesce a fare la natura da sola, senza nessun disegno da seguire, veramente incantevole. Verissimo. E poi siamo arrivati al must to be di un viaggio nella riserva andina, che sono le lagune, le lagune colorate. Quali lagune sono colorate? Perché il terreno è saturo di minerali, quindi si va a miscelare con la terra e va a formare delle lagune dai colori bellissimi. La prima che abbiamo visitato, ve ne faccio solo vedere alcune perché sarebbero tantissime, è la Laguna Celeste, da un colore impalpabile. Siamo a 4570 metri e questa viene chiamata anche la Laguna del Paradiso. Si narra che al di sotto, nascosta dalle acque, ci sia una ciulpa, che è un monumento funario apogeo preincaico, noi non l'abbiamo visto, e si stava scongelando. Difatti per venire in Bolivia il periodo ideale è da aprile a novembre, mentre nelle stagioni piove troppo. Noi siamo arrivati nell'inverno australe, ma in questa foto vi faccio vedere la differenza fra il sopra che agosto, quando l'ho visto io, e il fatto è marzo che l'ha visto invece un mio caro amico, quando la laguna era completamente scongelata. Certo. Quindi condizioni climatiche diverse e dipendente dal mese in cui vai, la Bolivia è bellissima, ma vedi anche delle cose diverse. Andiamo avanti, vediamo altre due lagune opposte. Abbiamo la Laguna Blanca e la Laguna Negra. La Laguna Negra è una piccola laguna, nera per le alghe che ci sono al suo interno, mentre la Laguna Blanca è una laguna immensa che si trova al confine con il Cile, noi abbiamo visto che era completamente congelata ancora. E quindi bianca. E quindi bianca. Al confine con il Cile però abbiamo un'altra laguna bellissima, che è uno smeraldo 17 km quadrati, che è la Laguna Verde. Con alle spalle vedete il Licancavur, che è il vulcano che finia il confine tra il Cile e la Bolivia, altro più di 4500 metri. Il colore della Laguna Verde è un colore dinamico, sia dipende dall'ora del giorno e anche dalle condizioni di atmosfere che ci sono. Noi siamo arrivati a Zurroniolo, poi è arrivata una brezza di vento che ha smosso le acque e si è cominciato a palesare questo bellissimo verde. E quindi siete riusciti a accoglierla nel suo colore meraviglioso smeraldo. Alle spalle, come vi ho detto, c'è il Licancavur, il vulcano che finia il confine. Sul Licancavur c'è una bellissima leggenda, perché vede due fratelli, Licancavur e Lascar, due ragazzi che andavano d'accordo fino a quando è arrivata una donna di cui entrambi si innamorano, la principessa Zuriches. Licancavur ha la meglio, Lascar si dispera e forma piangendo un lago salato, poi incomincia a lanciare fiamme che vanno a decapitare Zuriches e muore. Licancavur si dispera fino a quando arriva un'altra principessa, una principessa straniera, che è la principessa Kamal, solamente che se non straniera non potevano stare vicini. Però a finire, con il solstizio d'inverno, la principessa Kamal viene a trovare Licancavur e la sua ombra si proietta davanti al vulcano. Come sei romantico, caro Giulio. Sì, proprio. Vedi, i due vulcani, adesso hai Licancavur e adesso hai quello mozzato, sia ai Zuriches, che secondo la leggenda non aveva la sua testa. Esatto. E poi arriviamo alla signora delle lagune, La Puella. Siamo a 4200 metri, 60 km2 per 80 cm di profondità, ed è la Laguna Clorada. La Laguna Clorada è rossa, per il clore del pigmento delle alghe al suo interno. Ma la vera bellezza della Laguna Clorada, oltre che camminarci intorno, perché è un paradiso, ed è veramente una stupenderia della Bolivia, la Laguna Clorada, è la precedenza dei fenicotteri, i famosi flamingos. In Bolivia abbiamo tre tipi di flamingos. Qua vediamo quelli andini, che sono quelli con le gambe bianche e la cui colorazione è pallida verso la base del corpo e poi diventa più scura man mano che si va verso l'alto. Gli altri due sono quello cileno, che è quello più rosso, in quanto mangia alimenti pieni di pigmenti rossi, come i crostaci, e quello di James, che è il più piccolo, con le gambe color rosso mattone e una colorazione molto più pallida. Noi l'abbiamo vista al tramonto e siamo nel punto più freddo della nostra permanenza nel salar e i flamingos si vedono da vicino, non si spaventano. Qua vediamo il licancavur che si proietta nelle acque della Laguna Clorada. E quindi con il flamingo, che poi voglio dire in questi anni sono diventati di grande moda e di estrema attualità, noi andiamo in pubblicità e torniamo molto molto presto in Bolivia. Torniamo, torniamo e continuiamo questo affascinante viaggio in Bolivia grazie al nostro Giulio Seva che ci sta portando a vedere dei paesaggi magici e che voglio dire regalano davvero tanta serenità. A contrasto poi con quello che ci sta raccontando, ossia questo viaggio che è stato fatto in condizioni estreme. Se non altro bastasse, cioè non bastasse solo questo, perché è stato fatto sempre a più di 4.000 metri e senza un letto comodo una doccia con dei pranzi frugali consumati dove capitava alla peggio sul cofano delle jeep. Adesso, dopo aver lasciato queste lagune meravigliose che abbiamo visto, c'è un altro spettacolo della natura che sono i geyser. Esatto, infatti la riserva non è solo lagune ma c'è anche altro da vedere. Una cosa benissima è una raggio termica che sono i geyser di Solmaniana. Qua siamo fra i 4.800 e i 5.000 metri quindi stiamo salendo. Sono un'area di 10 km quadri con varie pozze bollenti e di vapore acquo. È la stessa falda del Tatio che è il geyser più importante dell'America Latina che vedremo poi dopo. Siamo nel complesso vulcanico Alto Piano Puna. Facciamo una passeggiata e ci immergiamo nei vapori e nei colori di quest'area molto molto bella. Poi le ultime due cose che vediamo sono il deserto Dalì è un basso piano sabbioso dove ci sono delle formazioni rocciose particolari. Quella che vedete in alto a sinistra è l'arbro di pietra. Il nome Dalì si tratta proprio dalla particolarità delle formazioni rocciose che lo caratterizzo. E poi in basso abbiamo le Ternas de Polques al confine colcine delle terme naturali di acqua sorgiva dove la temperatura arriva fino a 31 gradi e qua ci siamo lavati. L'acqua era calda quindi ne avete approfittato per un bel bagno. Esatto, ne abbiamo approfittato. E' arrivato il momento visto che eravamo al confine col Cile di fare un passaggio nel paese limitrofo e siamo saliti ai 4.400 metri della frontiera che separa la Bolivia dal Cile Ito Kayon in questa foto vedete le differenze fra due stati il più povero della Bolivia e la Svizzera del Sud America in alto sembra più che una frontiera sembra un ovile un avamposto in mezzo al nulla c'è una bandiera pensata davanti a questa casa siamo arrivati c'era un unico funzionario con fuori un cartello io sono a pranzo ci vediamo dopo. Abbiamo fatto velocemente l'immigrazione quando lui ha finito di pranzare e poi siamo andati dalla parte ciena qua è una dogana a tutti gli effetti i cieni è gente molto precisa c'è gente molto benestante per arrivare in Cile e chiedere il permesso ci erano mossi mesi prima per avere l'autorizzazione per i nostri vaccini ci hanno guardato le valigie hanno visto che non portassimo niente di cibo e ci hanno dato il permesso di entrare fra Bolivia e Cile dalla guerra del Pacifico non c'è un buon rapporto hanno un atteggiamento completamente diverso basta dire che con quella guerra la Bolivia si è impoverita il Cile nei primi 5 anni ha aumentato il PIL del 900% e la Bolivia oggi non ha un accesso al mare anche se all'AIA al Tribunale ci sono continue istanze del governo boliviano che richiedono che gli venga ridato quel pezzo di mare che poi è dove siamo andati noi ma ogni istanza viene ovviamente rigettata il motivo per cui noi siamo andati in Cile è andare a vedere il deserto di Atacama abbiamo fatto tappa a San Pedro di Atacama anche detta la porta del cielo in quanto la città è alta anche se siamo a 2400 metri che con fronte a quello che abbiamo vissuto finora è nulla ma soprattutto c'è assenza completa di inquinamento di fatti qua ci sono vari siti astronomici importantissimi il deserto di Atacama è il deserto più asciutto piaciuto al mondo può anche non piovere per 60 anni in una delle parti più ospitali dell'intero pianeta noi siamo andati a visitare la valle della luna che vedete in alto la prima cosa che abbiamo fatto è sottovare un trekking nella valle di Marte che è all'interno di questo parco il cui nome deriva da una difficoltà linguistica fra un perito gesuita che arrivò qua negli anni 50 e la popolazione locale degli Atacamaenus in quanto lui vedendo il colore rosso delle terre lo chiamò Marte loro non parlavano benissimo l'inglese e quindi capivano morte e da qua il nome della valle quella che avete in basso invece è la duna maior ossia la duna più alta che si vede nella valle della luna da cui si vede un bellissimo tramonto e soprattutto si ha la vista sui vulcani in Cile abbiamo il 10% dei vulcani dell'intero pianeta un'altra differenza fra il Cile e la Bolivia che in Bolivia non abbiamo incontrato nessuno nei giorni in cui siamo stati il Cile invece c'è molto più turismo ma anche solo come guardiani potevamo buttarci nella laguna colorada e nessuno ci avrebbe detto niente qua non ti potevi nemmeno avvicinare alla punta della duna maior c'è un controllo cileno decisamente più accurato rispetto a quello boliviano qua abbiamo un'altra immagine per vedere la colorazione della della valle di Marte poi siamo andati a vedere altre due attrazioni sempre in Cile in alto abbiamo il salar di acqua caliente siamo oltre il tropico del capricorno e anche questo è caratterizzato da una roccia rossa in basso invece abbiamo la laguna ciasca troviamo sempre i finicottri e poi abbiamo fatto il bagno nella nostra guida qua avevamo una guida differentemente che in Bolivia certo che potremmo farlo perché c'era una concentrazione di sale che ti permetteva di galleggiare un po' come in Mar Morto e che era calda è vero che si poteva galleggiare non era vero che l'acqua era calda per niente la laguna era totalmente gelida vabbè rinfrancante fa bene alla pelle bene bene sale e acqua fredda sai che per la pelle è un tocca sana meno male è stato un bene fare il bagno quindi poi torniamo in Bolivia ultimo step ti è piaciuto il Cile l'ultimo step è il geyser più grande dell'America Latina il terzo del 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 mondo siamo a 4200 metri quindi è il punto più alto che che toccheremo in Cile ci arriviamo all'alba in quanto l'attività vulcanica è maggiore con le con le prime luci del del mattino e il tattio vuol dire in linea Cusca ossia la linea locale nonno che piange e questo nome gli viene dato perché le montagne limitano quando c'è la neve e la neve si sta sciogliendo sembra un uomo anziano che sta lacrimando questa è l'ultimo step che abbiamo fatto in Cile poi siamo tornati finalmente in Bolivia sempre nomi molto romantici e pittoreschi comunque in Sud America ci sono rispetto anche agli elementi naturali bella la foto di questo geyser ed eccoci siamo tornati finalmente in Bolivia e ci dirigiamo verso nord e c'è un video che ci introduce al Salar de Uyuni una meraviglia della Bolivia eccoci siamo nel luogo più visitato della Bolivia 10 metri quadri che ne fanno la distanza di sale più grande al mondo siamo ed è bellissima non c'è nessun punto di riferimento i nostri autisti hanno guidato nel Slar dove non ci sono strade non ci sono cartelli non c'è nessuna segnaletica gli unici punti di riferimento per loro erano le cime delle montagne innevate il Slar de Uyuni l'abbiamo visto prima passare è famoso anche per la plaza della Bandiras che è una piazza che è stata eretta a ricordo della Parigi-Dakar la corsa automobilistica che quando è nata si faceva partire dalla capitale francese e arrivava in Africa poi nel 2008 per problemi di instabilità fu tolta la tappa africana e per 10 anni passò in Sud America in Argentina in Cile e in Bolivia e una delle tappe più belle erano quelle all'interno del Slar di Uyuni è veramente pittoresco noi ci siamo rimasti un paio di giorni nel Slar dormendo in un hostal ma a questo punto un hostal fatto di sale quindi completamente fatto di sale la cosa positiva del Slar fatto di sale è che mantiene caldo quindi quando ci siamo arrivati era molto più caldo degli hostali dove avevamo dormito fino ad ora quindi volendo più ospitale d'acqua guarda veramente suggestivo esatto completamente fatto di sale incredibile questo invece è il Slar anche qua io ho fatto vedere la contrapposizione fra agosto e marzo ad agosto vedete quello che caratterizza il Slar ossia quegli esagini quei cristalli di sale mentre a marzo quando è appena finita la stagione delle piogge diventa un lago d'argento un sottile strato di acqua si deposita sull'ultimo strato di sale che è alto in circa 60 cm e il cielo si riflette nelle acque e si fa addirittura arrivare a perdere l'orientamento mentre una delle più belle escursioni che abbiamo fatto è stata quella all'isola dei Incausi il Slar ha delle isole che sono delle colline in roccia lavica ce ne sono 32 all'interno dove la più bella caratteristica è quella dei Incausi che ha forma di pesce siamo arrivati quando era notte all'illuminazione della strada c'erano solamente le stelle e poi ci siamo goduti l'alba in un posto dove ci sono più di mille cactus alti anche più di 10 metri faceva freddissimo 10 metri i cactus sì 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 incredibile bello 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 bravo Giulio anche delle belle foto esatto sì non sono tutte quante mie alcune mie le sono fatte prestare diciamo onore ci tengono 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 poi si è lasciato il Slar dei Doiuni siamo mossi verso il nord nelle ande occidentali qua in teoria il mio viaggio doveva prevedere l'Amazzonia ma non era possibile andarci perché con il covid le compagnie erano fallite quindi non c'era nessun volo che ci portasse a Rurrebanaco che è la porta dell'Amazzonia e quindi ho introdotto una novità per questo viaggio che è il Sayama National Park se fino ad ora avevamo entrato pochissimi turisti qua non ne incontriamo nessuno pochissimi alberghi e state solamente sterrate siamo alla base del Navado Sayama la montena più alta della Bolivia alta più di 6500 metri c'è un reddito particolare su questo vulcano ossia nel 2007 il presidente Morales sempre lui ci fece una partita di calcio per dimostrare alla comunità internazionale che non era giusto che gli eventi sportivi agonistici non si potessero ottenere al di sopra dei 2500 metri ovviamente la sua istanza fu rifiutata perché non è possibile per una persona che non è ambientata a vivere a quella quota poter svolgere sport a così grandi altezze il vulcano è inattivo un vulcano del prestocene che domina la città dall'alto giustamente la Bolivia dirà qua il mondiale di calcio non li giocheranno mai esatto e non vinceremo mai è un po' quello era il senso della cosa abbiamo fatto un trek detto anche le lagune di altura un trek che ha toccato i 5000 metri quindi considera che il mio gruppo non era abituato a questo è stato un rischio eravamo tutti quanti d'accordo e siamo andati al confine fra Cile e Bolivia a vedere queste tre lagune nella prima vediamo questi bofedal che sono dei laghi di acqua salmastra che sono dei pascoli naturali per le vigonie e per gli ama poi a 4900 metri c'è la laguna Sarapata e poi alla fine la laguna Ciarcota dove si specchia anche il Navado Sayama nelle sue acque lasciamo il nostro Sayama e arriviamo finalmente alla capitale della Bolivia arriviamo quindi alla pazza quella che abbiamo detto essere la capitale legislativa della Bolivia sono quasi emozionata a vedere un po' di palazzi un po' di civiltà dopo tutta questa natura anche per voi penso sia stato un impatto notevole dopo tutto questo deserto e ci troviamo un milione di persone arriviamo in mezzo a un milione di persone immaginate un milione di persone che vivono a 4000 metri che è una quota maggiore della marmolata perché la pazza si trova è adagiata in un canyon e si stende per verticale per 400 metri ossia la sua base è a 3600 il quartiere più alto che è l'alto dove c'è l'aeroporto è a 4000 metri ovviamente era un continuo di strada in discesa e in salita per ottimizzare il trasporto e la comunicazione degli abitanti hanno costruito un sistema di funivie 10 funivie detto anche mi teleferico che collega le città che collega i vari quartieri delle città quindi come noi per esempio a Milano ci muoviamo in tram o in metropolitana loro per andare al lavoro per andare a ballare per uscire con gli amici per farsi una passeggiata usano la teleferica non l'abbiamo presa siamo feriti a El Alto che è il quartiere quello in alto che è il quartiere chiamato del riscatto il quartiere giovane è il quartiere da dove nell'ottobre del 2003 partì la rivolta che portò l'allora presidente Sanchez a scappare negli Stati Uniti è un quartiere povero è il quartiere della malavita del mercato nero e del contrabbando noi stiamo tutti fortunati perché era il giorno in cui c'era il mercato uno dei mercati più grandi del Sud America e quindi l'abbiamo visitato questa la Paz l'avete visitata in autonomia o con la guida? no l'abbiamo fatta noi in autonomia ma non c'è bisogno di una guida quindi a parte questo quartiere malfamato eccetera comunque una metropoli abbastanza sicura? siamo sempre in Sud America rispetto ad altre città che ho visto in Centro America o anche in Ecuador dove è un po' più borderline devi fare da fare sicurezza in Sud America qua respiri più serenità però devi sempre prestare attenzione comunque la criminalità in Sud America è presente quindi un occhio di riguardo bisogna sempre averlo ok la Paz però è comoda perché l'abbiamo presa anche per come punto d'appoggio per poter fare delle escursioni nelle zone limitrofe una delle escursioni più famose che si possono fare in Bolivia è quella della carattera della morte la famosa Diff Road si chiama così perché negli anni ci sono stati molti incidenti che hanno portato a numerosi morti che vengono ricordate con delle crocce di legno che si trovano lungo la strada questo è un percorso di 45 chilometri che parte da la cumbre ossia l'appennino a 4.650 metri e arriva fino all'amazzonia a Coroiro a 1.525 metri per 3.000 metri di dislivello come ti ho detto prima per anni ci sono stati vari incidenti poi hanno costruito una strada di più rapida e sicura comunicazione e quindi la carattera della morte è stata ed è nata come il paradiso dei bikers ossia gente che va in bicicletta che viene da tutto il mondo per percorrerla in tutta la sua lunghezza e anche voi l'avete fatta in bicicletta ovviamente comunque un bel gruppo molto avventuroso sportivo sportivo e non mi dicevano mai di no la strada è pericolosa però basta fare le cose con attenzione perché è stretta c'è un baratro è sterrata quindi bisogna saperla affrontare ma il tour con cui l'abbiamo fatto erano dei ragazzi molto precisi che ci seguivano con la camionetta ci seguivano con le bici di scorta e loro avevano una sola regola tu puoi cadere due volte la prima volta cadi e ti rialzi la seconda cadi e torni giù con me cioè non ti davano una seconda chance ovviamente per sicurezza noi nessuno è caduto nessuno si è fatto male ma qual era il pericolo perché uno avrebbe avuto c'è un burrone di 3000 metri no dico ma come mai si poteva cadere è piena di pietre e quindi tu devi saperla affrontare conta che il primo pezzo l'abbiamo fatto sull'asfalto poi l'abbiamo cominciato a fare inizialmente eravamo tutti quanti in difficoltà poi avevamo capito che bisognava affrontarla con coraggio ossia se la pietra la prendi male la prendi piano rischiavi più di cadere che prenderla velocemente l'importante era farlo con sicurezza stando vicino alla parete della montagna e senza esporsi troppo verso il baratro esatto verso lo strapiombo la cosa interessante è che siamo partiti da 4.600 metri quindi eravamo coperti di tutto quanto con piumino e tutto quanto e siamo arrivati nella Marzonia a 1.500 metri abbiamo fatto il bagno in piscina e quindi man mano che scendiamo per quella strada ci spogliavamo perché faceva sempre più sempre più caldo un'altra escursione che abbiamo fatto è quella al lago Titicaca siamo a 3.812 metri siamo nello specchio d'acqua navigabile più grande del mondo questa è la culla della cultura dell'America Latina è al confine fra Perù e Bolivia io ho avuto la fortuna di visitarlo anni fa nella parte peruviana e ora di visitarlo nella parte boliviana è per il 70% peruviano e per il 30% della Bolivia sono due le città principali della Gotiticaca Puno e Copacabana che poi sono le città portuali da cui ci si imbarca per andare a vedere le isole che sono le meraviglie e il vero motivo per cui si arriva in queste zone abbiamo nella parte peruviana abbiamo le amantane e le uros ossia delle isole fatte in tutora che è una pianta marina spontanea mentre nella parte boliviana quella di nostro interesse erano l'isola del sol e l'isola della luna mentre l'isola della luna è molto piccola e viene principalmente utilizzata da tutti quanti per un pranzo sul lago o per vedere le prime rovine del popolo inca quella che più si visita è l'isola del sol 13 km quadrati di isola una particolarità che è piccolissima ma è divisa in due la parte nord e la parte sud 900 famiglie che non si parlano abbiamo a sud la popolazione di i amani a nord i chulapampa il fatto che non si parla non ti permette di poter andare da una parte all'altra a piedi per cui devi riscendere perché lì ad esempio i umani è in alto alla collina devi riscendere prendere la barca e andare dall'altra parte esatto capoccioni però questi boliviani sì ma non si parla per motivi di turismo come tutto quanto i maggiori litigi vengono da quelle regioni lì turismo tradotto soldi loro noi siamo arrivati al porto di i umani e poi l'abbiamo salita abbiamo fatto prima le scainadas che ti porta in alto e ti porta a una sorgente a tre teste che è una sorgente che riprende i tre principi dell'inca ossia ama sua ama lulla ama quella che vuol dire non mentirai non ruberai non sarai mai pigro questa infatti come vi ho detto è la culla dell'inca è qua dove si pensa che siano nati i primi due inca al mondo che sono mancio cepat e macchio oglio gli stessi che poi andarono a costruire la capitale la prima capitale dell'impero inca che era era a Cusco si dice l'agenda narra che a macchio cadde il bastone sulla montagna e lì fondò la città in realtà è solamente un modo in cui gli inca nel quindicesimo secolo vogliono giustificare l'invasione coatta che fecero delle isole anche qua abbiamo visitato sia la parte sud che la parte nord abbiamo dormito in cima in un bellissimo albergo con vista con vista su tutto quanto il tramonto e tutta quanta l'isola finalmente un albergo un albergo anche molto bello e mi sembra che lì ci fosse l'acqua calda non ricordo esatto non è una cosa essenziale ormai ci eravamo abituati all'acqua fredda ormai era solo uno stufore avere l'acqua calda l'ultima discussione che abbiamo fatto la facciamo partire con un video è il Pico Austria siamo nel Condoriri National Park siamo all'incirca a due ore dalla capitale La Paz e questo parco è famoso perché ha 13 civette alte più di 5.000 metri noi abbiamo deciso di fare un trekking nel Pico Austria che sono 5.350 metri quindi siamo saliti da 4.400 metri a 5.350 ma si facciamoci un trekking che eravate riposati quindi sgranchiamoci le gambe prima parlavi del mio gruppo io lo devo ringraziare perché sono stati bravissimi l'abbiamo fatto in 12 su 16 questo trekking mentre gli altri sono andati a visitare delle rovine inca vicino alla Paz non si sono mai lamentati siamo saliti ovviamente con una guida perché da soli non si poteva non si poteva fare e abbiamo visto dei panorami unici dei panorami straordinari era una bellissima giornata quindi mentre molte persone non raggiungono la vetta perché poi trovare delle tormenti di neve noi siamo arrivati su tranquillamente l'unica regola era ognuno andava al suo passo e ci pedevamo in cima in cima certo devo dire che dal punto di vista meteorologico appunto siete stati molto 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 fortunati avete fruito sempre di belle giornate quindi trekking siete fatti tutti chissà magari qualcuno di te diceva speriamo che domani piove che mi riposo e invece no c'era sempre bel tempo va bene dai si scherza però davvero abbiamo percepito quanto sia avventuroso d'altronde tu sei coordinatore dei viaggi di scoveri di scoveri quindi si scopre si viaggia e soprattutto si fatica ma la fatica come vediamo da questa foto è sempre col sorriso sulle labbra sì sì esatto ma poi era una una soddisfazione cioè per me era anche per me la prima volta a fare un trekking oltre i 4.000 metri arrivare a 5.000 è stata una soddisfazione enorme senti ovviamente il bagaglio in questo caso no come hai detto avete affrontato un po' tutte le temperature ma neanche sapevate bene cosa avreste trovato quindi un po' di cipolla esatto bravissima bisogna essere preparati a ogni condizione atmosferica quindi fondamentalmente la cipolla un guscio qualcosa in Gore-Tex che ti proteggesse dalla pioggia piumino pile qualcosa di pesante e soprattutto un sacco a pelo con temperatura comfort molto bassa perché nei rifugi non c'era il riscaldamento abbiamo capito un po' dai tuoi racconti che tu il Sud America lo conosci molto bene l'hai girato abbastanza dove torneresti? in Bolivia quindi in Bolivia e in Ecuador con la Bolivia il viaggio del cuore cioè la Bolivia anche se non ha sbocco sul mare anche se alla fine un paese povero ti ha rubato il cuore la Bolivia è un viaggio che si sceglie in Bolivia non ci capiti in Bolivia ci vai perché ci vuoi andare perché è il paese che vuoi visitare è un paese dove devi essere preparato da quei disagi che abbiamo visto ma vengono riparati da delle meraviglie dalle stupenderie che difficilmente trovi altrove e poi fuori dagli itinerari turistici di monastro va bene noi davvero ringraziamo Giulio Seva perché ci ha fatto scoprire sicuramente tante cose di un paese del quale sapevamo molto perché la storia tante volte ci ha portato in Bolivia però naturalmente adesso ne sappiamo ancora ancora di più allora ti voglio salutare così il viaggio non è mai una questione di soldi ma di coraggio cosa ne pensi? verissimo verissimo sono contenta grazie ancora Giulio Seva con lui ringraziamo Avventure nel mondo e l'angolo dell'Aventure di Milano torno a trovarci e per voi cari amici l'appuntamento è alla prossima dove vi porto non lo so quello che so che ce ne andremo in giro per il mondo grazie